I gesti sanno che le risorse finiscono il 30 dicembre e non nominano. Allora io devo chiudere, però voglio chiedere a professore Rossidoria di tornare a parlare con noi. Professore, perché ora non ne ho il tempo, ma io voglio chiederle come deve essere la scuola, perché questa scuola deve cambiare. Il post pandemia forse ce lo insegna. Torna a trovarci, professore. Torno, tempo pieno sì, rispondendo all'amico della CGL, però tempo pieno, bello e ricco, non chiusi in classe a fare la didattica trasmissiva. Condivido, professore. Discutiamo del tempo pieno, discutiamo anche di questo, ma discutiamo anche del tempo pieno. Allora, devo chiudere.